Terremoto questa notte a Montalto di Castro, l'epicentro del sisma, vicino alla spiaggia di Montalto Marina, che ha raggiunto il valore di 2.7 della scala Richter, a circa 10 km di profondità. Tanta paura tra i residenti, ma nessun danno a cose e persone, per fortuna. I raguagli nel nostro servizio. Oddio, la terra trema. Una bomba, un'esplosione, un tuono. No, è il terremoto. In piena notte, gli abitanti di Montalto di Castro si sono svegliati così, con un gran boato, il letto e l'armadio che si spostavano, gli oggetti che cadevano. Una scossa ai pavimenti e alle pareti mai registrata prima a Montalto. Poi, qualche ora dopo, la notizia certa si è trattato di un terremoto di magnitudo 2.7 della scala Richter. Un evento assolutamente eccezionale per la cittadina castrense, che non ha memoria di episodi simili. La terra ha tremato più volte. L'ultima scossa, quella più volenta, alle 3.45. Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nel distretto sismico dei Monti della Tolfa. I sismografi hanno registrato il movimento tellurico ad una profondità di circa 10 km, con epicentro il Mar Tirreno, vicino la spiaggia di Montalto Marina. Tanta paura tra i residenti, subito scesi in strada nel buio a causa del boato provocato dalla scossa. Molti si sono riversati in strada per la paura e c'è anche chi ha passato la notte in auto. Diverse le chiamate dei vigili del fuoco e ai carabinieri, quest'ultimi già in attività di perlustrazione. I militari sono intervenuti per prestare assistenza alla popolazione e i vigili del fuoco hanno perlustrato l'area e alcuni mobili pubblici per verificarne la stabilità. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e i danni registrati in alcune abitazioni risultano al momento di lieve entità. Nel centro storico la scossa ha provocato la rottura di una tubatura di uno scaldabagno che ha allagato parte di un appartamento. In alcune case Ater si sono invece formate delle crepe sui muri, piccoli danni anche nelle abitazioni ex Enel. Il sindaco di Montalto di Castro, Sergio Caci, sceso anche lui in strada alle 4 del mattino, ha subito allertato la prefettura di Viterbo ed ha perlustrato fino all'alba le vie del paese insieme ai carabinieri e alla polizia locale dalla protezione civile. Alle 3 le strade di Montalto sono tornate alla normalità, ha raccontato Caci. A mattina inoltrata era però ancora viva la paura tra gli abitanti, che non dimenticano gli episodi drammatici dell'Aquila. Mi sono svegliato di soprassalto, l'armadio sbatteva contro il muro, ho pensato al peggio, ha raccontato un residente. Ho sentito una specie di tuono e la terra ha tremato, ha detto un altro. Ho avuto davvero paura, ho passato la notte in auto. Il timore era di una catastrofe, hanno raccontato altri ancora. La scossa di terremoto, oltre a Montalto, è stata percepita dalla popolazione anche nella zona di Capalbio. A Tarquinia, invece, nessuno si è accorto di nulla. Solo il sindaco Mazzola ha saputo dell'evento sismico di buon'ora su comunicazione della prefettura e ha subito verificato se ci fossero segnalazioni in loco, ma tutto taceva. Altri eventi sismici stanotte si sono verificati alle 3.30 nella Lunigiana, con magnitudo para 2.4, poi quella di Montalto alle 3.45 e la terza alle 6.28 in Emilia. Sul litorale viterbese mai prima d'ora si era registrato il terremoto. Si ha memoria solo del tragico sisma del 6 febbraio 1971 che rase quasi completamente al suolo la città di Tuscania, nell'entroterra viterbese. Cambiamo argomento, passiamo a Santa Marinella. Protestano i residenti del quartiere che confina con il fosso sciatalone a Santa Marinella per il nauseante odore che fuoriesce dai numerosi scarichi delle fogne che riversano i liquami nel corso d'acqua che va a terminare la sua corsa nel tratto di costa denominata Curva dello Specchio. La zona incriminata è quella di Via delle Mimose, dove il problema si sente maggiormente, tanto che i residenti stanno facendo una raccolta di firme per portare il caso all'attenzione dell'amministrazione comunale, se necessario, anche della Procura della Repubblica. Una vicenda che si trascina avanti da anni e che ha avuto il suo epilogo nel 2012 quando il titolare del terreno, confinante con il fosso, chiese conto al Comune per vedersi riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e che lo stesso proprietario sborsò al momento in cui una società realizzò il muro di contenimento su cui poi sono emerse le fogne che getta nei liquami in quel corso d'acqua. Sono tutti scarichi illegali privati che creano enormi danni all'ambiente, dicono i residenti della zona. Abbiamo fatto numerose segnalazioni al Comune, sono venuti a fare dei sopralluoghi, ma poi non se ne è fatto più nulla. Abbiamo notato che negli ultimi due anni il numero degli scarichi ha aumentato notevolmente e questo probabilmente per la realizzazione di nuove costruzioni. Passi avanti a Tarquinia verso il completamento della piscina comunale. Parola del sindaco Mauro Mazzola. Sono entrati in funzione, spiega il primo cittadino, i pannelli solari installati sul tetto della piscina comunale. Questo è un esempio concreto di come investire in energie rinnovabili per una città più sostenibile e rispettosa dell'ambiente, ha rimarcato Mazzola. Inoltre rappresenta un ulteriore importante passo avanti nella realizzazione della piscina, i cui lavori procedono spediti. L'impianto di ultima generazione, dalla potenza di 180 kW, è già stato collegato alla rete elettrica e in un anno si stima produrrà oltre 200.000 kW. L'equivalente è di 70 famiglie che hanno un consumo medio anno di circa 3.000 kW. Le polemiche le lasciamo agli altri, commenta il sindaco Mazzola. Questa amministrazione continua invece a lavorare e a ottenere risultati di rilievo. E passiamo a Tolfa. È stata Via Alta, una caratteristica stradina che dà su Via del Paradiso ad aggiudicarsi il concorso per l'individuazione della via più bella del centro storico indetto dal comune di Tolfa. Il risponso della giuria di esperti è composta da Sonia Restrepo, due membri del centro studio italiano-norvegese Gabriella Tusce e Silvia di Silvestro. Ha infatti gratificato il caratteristico vicolo. Al secondo posto si è classificata Via della Rocca, mentre nell'ultimo gradino del podio si è piazzato l'ultimo tratto di Via Costa Alta. La premiazione con la fissione di una targa si terrà domani alle 17.00. su Via Alta la presenza del sindaco Luigi Landi e della consigliera Stefania Ventivoglio che ha seguito il concorso. È stato votato mercoledì pomeriggio dal Consiglio Comunale di Cerveter il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e tutti gli emendamenti presentati in aula. Il primo bilancio dell'amministrazione guidata dal sindaco Alessio Pascucci. Continua la vergognosa corsa ai tagli che il governo centrale fa verso gli enti locali. Continuano le promesse e le parole ma ci troviamo di nuovo con meno risorse. Tra il 2012 e il 2013 ci siamo visti sottrarre 2,4 milioni di euro e come al solito lo Stato ci costringe a tassare i cittadini. Ha dichiarato in aula consigliare il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci. È stata una sfida complicata ma siamo riusciti a non toccare le aliquote immo per tutelare le fasce più deboli della popolazione. La prima causa rimane lo 0,44% l'aliquota più bassa del comprensorio e le seconde case locate o abitate da figli e genitori restano allo 0,6% aliquota che ci dicono essere la più bassa d'Italia. Così come non abbiamo toccato le imposte sui terreni e gli annessi agricoli sui quali abbiamo di nuovo l'aliquota più bassa d'Italia. E passiamo alla Dispoli. Prima risposta delle ferrovie dello Stato dopo l'appello dei giorni scorsi del sindaco di Ladispoli Crescenzo Pagliotta. Il primo cittadino durante un colloquio con il direttore dell'Azio di Trenitalia Agnello Semplice nel quale aveva chiesto una maggiore attenzione alla tratta FR5 aveva segnalato i problemi che maggiormente assillano i pendolari. Tra questi il sindaco Pagliotta aveva affrontato anche il problema della biglietteria chiusa all'ora di pranzo nei giorni festivi. L'intervento dell'amministrazione comunale, ha detto Pagliotta, ha ottenuto subito un positivo riscontro. Alla stazione è stata installata una biglietteria self-service che consente anche l'uso del contante. Durante il colloquio avevamo anche parlato del problema dei bagni chiusi che però sono di pertinenza delle RFI. Il dottor Iorani di RFI ci ha appena annunciato l'intenzione di avviare in via sperimentale l'affidamento a privati delle toilette delle aspettazioni di Ladispoli così come da tempo avviene in tanti scali italiani. Ma ora diamo spazio a un piccolo break di pubblicità a seguire la nostra consuetà pagina dello sport.